Maestro, prima di parlare del concerto di questa sera, volevo un suo parere su quello che è accaduto a Parigi, dove ad essere colpito simbolicamente è un teatro, un teatro che esprime anche la sua vita in qualità di direttore. Che cosa ha provato? Beh, naturalmente ho provato questa sorta di sgomento, ma anche di assolutamente essere privo di qualsiasi potere, di qualsiasi essere impotente di fronte a quanto può avvenire, a quanto possono far accadere delle disgrazie. Queste persone sono... è veramente l'impotenza di fronte a quanto può accadere, a quanto può accaderti, mentre sei impegnato in qualsiasi cosa, che può essere in questo caso un concerto, essere in un teatro, ma anche essere con la propria famiglia, in qualsiasi posto. Ecco, diciamo che io, il mio primo pensiero è ricaduto sulla mia famiglia naturalmente, non tanto sul teatro, ma sulla mia famiglia, perché spesso e volentieri io sono in giro con la mia famiglia e ci si rende conto di quanto siamo impotenti, siamo deboli di fronte a una cosa del genere, bisogna cercare e sperare di essere fortunati in questo caso, purtroppo non c'è molto da aggiungere. Veniamo al concerto, invece. Questa sera verrà suonato Beethoven e Brahms. Mi concentro in modo particolare sulla seconda sinfonia, perché, secondo una lettura che ne è stata fatta, in modo particolare il primo movimento, come grandezza, viene definito paragonabile alla quarta di Brahms, ma, contestualmente, la sua struttura bitematica sarebbe quasi offuscata, nascosta in una struttura monotematica. È così? È un'interpretazione forse un po' troppo ortodossa? Come la vede lei? È un'interpretazione molto cervellotica, diciamo, però può avere sicuramente un fondamento. Brahms, come Beethoven, io li reputo, sono giustamente reputati i grandi sinfonisti tedeschi, i più grandi sinfonisti tedeschi, e sono dei maghi della variazione. Con un tema, con due temi, riescono a fare 20-30 minuti di musica, e non ci accorgiamo, in realtà, che il tema è sempre lo stesso. Succede nel primo movimento della seconda di Brahms, che il tema è quello, e viene variato in un modo talmente geniale, e anche lui, in modo cervellotico, ma lo rende sempre interessante e sempre nuovo. Ha un orecchio, poi, magari non così avvezzo a sentire questa sinfonia, potrebbe addirittura pensare che è un continuo nuovo tema, nuovo tema, nuovo tema, invece in realtà è sempre lo stesso tema, continuamente variato, quindi questo sicuramente può essere vero.